Ciao dolci unicorni, sono super mega contenta, sono super mega elettrizzata perché finalmente è arrivato il grande giorno, il grandissimo giorno ho lavorato tantissimo a questa cosa, sia io che Andrea abbiamo messo anima e cuore a questo progetto che adesso vi mostrerò e sono troppo 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 contenta nei miei social ho già messo qualcosa, qualcuno di voi ha provato a indovinare qualcuno ha indovinato, altri invece no e adesso è il giorno, il momento, il video della verità perché, perché è successa una cosa, un progetto stupendo e io sono troppo contenta di aver realizzato questo mio sogno e penso che è anche un sogno vostro perché noi siamo una famiglia i miei dolci unicorni siete voi, siamo il team unicorni più forte del mondo ma bando le ciancio, ciancio le bande, perché è successa una cosa e finalmente posso fare così sono arrivate le mie magliette il mio merchandising finalmente tutto dedicato a voi, tutto dedicato ai miei dolci unicorni, ai miei team unicorni guardate che bella, la maglietta è stupenda, è stupenda e se lo alziamo ancora c'è scritto hashtag team unicorni perché noi siamo troppo 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 pucciosi allora vi mostro la maglietta nel dettaglio questa qui è sempre la maglietta di Andrea perché anche lui l'ha presa e guardate che bella cioè questo qui è il mio logo, il nostro logo della nostra grandissima famiglia ed è un piccolo unicorno pansuto, tutto rosa, pucciosissimo con la linguettina di fuori poi c'è l'arcobaleno che alcuni di voi avevano visto anche sui miei social e poi c'è scritto corinnavantineo e hashtag team unicorni guardate che bella, guardate che bella sono troppo contenta voi non sapete, il cuore ce l'ho a 3000, a 1000, a 2000 non lo so, non lo so, sono troppo super mega contenta sia io che Andrea allora stiamo calmi perché sono elettrizzata allora vi dico dove potete finalmente acquistare perché da oggi le mie magliette e tutto quello che adesso vi mostrerò sono disponibili sul sito Slide io ho già collaborato col sito Slide per quanto riguardava le cover se ve lo ricordate hanno un sito super mega bello l'hanno anche rinnovato ed è tutto nuovo hanno tantissime cose e quindi mi sono affidata a loro perché la qualità delle magliette, la qualità dei prodotti è veramente il top il top e io ho scelto il top per voi ok 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 adesso vi mostro anche gli altri prodotti che ho deciso di fare per voi perché non sono soltanto le magliette no 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 allora apriamo questa scatola delle meraviglie che ho qui davanti a me iniziamo dalle cover perché so che voi siete amanti degli smartphone avete tantissimi telefonini e tantissimi modelli e quindi ho pensato anche per le cover le cover sono bellissime sono veramente una più bella dell'altra ci sono per tutti i modelli di telefono per tutti iphone, samsung, huawei, lg, tutti, tutti, tutti sony, tutti quelli che avete voi ci sono tutti sul sito quindi qualsiasi telefonino, qualsiasi smartphone c'è esiste, esiste la cover dei dolci unicorni del team unicorni io ho scelto queste qui perché sono bellissime queste decorazioni per me sono il top adesso ve le mostrerò anche nel dettaglio sono una più bella dell'altra quindi avete tantissima scelta di cover per portare la nostra famiglia sempre con voi poi un'altra cosa super mega pucciosa è questo qui che è il caricabatterie quello piccolino da mettere ovunque da portare sempre con voi per caricare il telefono adesso lo levo anche dalla confezione lo spacchetti insieme a voi finalmente perché ho aspettato questo video slide ha fatto veramente un ottimo lavoro e sono contentissima di essermi affidata a loro guardate che carino, cioè bellissimo è tutto in rilievo anche tutto il logo è in rilievo e io lo amo, lo adoro alla follia me lo porterò ovunque e me lo porterò ovunque poi un'altra cosa super mega importante e molto molto carina è questo qui che è il power bank io tipo sempre mi trovo anche quando viaggio col telefono scarico super mega scarico e dico oh mamma mia come devo fare e finalmente è arrivato il mio power bank che è qualcosa di troppo puccioso troppo carino è fatto anche questo nei minimi dettagli è tutto in rilievo la qualità è sempre al top ed è stupendo, stupendo ovviamente giù in descrizione e ovunque troverete il link dove poter acquistare tutto lo troverete sempre, 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 sempre tutto disponibile ci saranno alcuni prodotti che stanno per arrivare quindi attenzione spiate sempre il sito mi raccomando perché arriveranno tantissime novità tipo la sacca, braccialetti di tutto e di più questo qui è anche un portachiavi voi sapete che io amo i portachiavi e molti di voi li amano e quindi li ho fatti fare anche per voi c'è sempre il logo con il nementineo ed è qualcosa di troppo, troppo puccioso ho scelto la base rosa perché voi sapete il rosa lo amo anche voi lo amate ed è il top c'è anche qualche cosina di bianco anche per i maschietti un'altra cosa che so che voi amate e lo amo anch'io è il pop socket il pop socket ci tengo tantissimo a mostrarvelo perché lo adoro è fatto benissimo ed è bellissimo tantissimi di voi quando vi fate le foto con me in giro avete i vari pop socket e quindi ho detto ok allora devo fare il pop socket per i miei dolci unicorni è super mega puccioso è bellissimo è un paladino patadoso tutto tondo tondo io adoro il mio logo perché è bellissimo questo unicorno così panzuto con questa pancina rosa rosa l'abbiamo studiato nei minimi dettagli veramente ci abbiamo messo anime e cuore il pop socket lo dovete avere assolutamente assolutamente quando vi fate le foto con me così avete il mio pop socket finalmente anzi mi raccomando mi raccomando se acquistate mi raccomando fatevi le foto e taggatemi utilizzando l'hashtag team unicorni mi raccomando in modo tale che io vedo tutte le vostre foto vado a mettere like e soprattutto prenderò tutte le vostre foto e farò dei collage super mega grandi super mega grandi ok poi un'altra cosa molto carina e super mega pucciosa è questo qui che è lo squishy unicorno con il mio nome di sopra Corinne Mantineo è un unicorno super mega puccioso e oh mio dio che carino dal vivo è tutta un'altra cosa è morbidissimo è squishiosissimo è troppo 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 carino e c'è scritto Corinne Mantineo con tutti i cuoricini perché noi siamo troppo cuoriciosi e troppo carino sono super mega esaltata ma capitemi per me è un sogno e spero che sia un sogno anche per voi e poi l'ultima cosa che ho qui in questo scatolo è questo che è il foggia mouse io adoro i foggia mouse perché sono comodi permettono di spostare il mouse sempre alla perfezione i miei cuccioli i miei dolci unicorni sono messi lì sempre a studiare o comunque a giocare col computer e quindi ho detto ci sta ci sta se riesco ad aprire ah eccolo qui c'era la ma sì l'apertura facilitata che io non vedo mai mai ok eccolo qui è morbidissimo ma allo stesso tempo è rigido in modo tale che non si va a spostare per tutta la scrivania quindi se lo appoggiate sta lì fermo ok bellissimo ha tutto lo sfondo rosa il mio logo e poi l'hashtag team unicorni io sono contentissima sono super mega esaltata quindi mi raccomando se volete acquistare le mie magliette i miei prodotti i miei merchandising visitate il sito slide c'è la sezione dedicata al mondo degli youtubers quindi c'è anche la mia sezione c'è tutta la descrizione è tutto fatto nei minimi dettagli e soprattutto attenzione perché arriveranno tantissimi nuovi prodotti che già stiamo già pensando tutti per voi sono contentissima sono super mega contenta mi raccomando appena acquistate vi arrivano i prodotti comunque in tempo brevissimo vi fate le foto taggatemi su instagram o su tutti i social utilizzando l'hashtag team unicorni perché è il nostro hashtag solo noi abbiamo questo hashtag quindi mettete questo hashtag e io andrò a spulciare le vostre foto le prenderò e le utilizzerò per fare un collage super mega bello porterò anche questi prodotti in tutti gli eventi in tutte le fiere che andrò a fare da qui in avanti quindi mi raccomando state attenti anche nei miei social perché vi avviserò di tutto e di più dove andrò sia io che Andrea e c'è anche un prodotto che io vi mostrerò nei prossimi giorni su instagram ma anche nei posti su youtube perché comunque sto utilizzando tantissimo la community di youtube voi mi seguite tantissimo c'è un prodotto che io amo amo alla follia che avrò tra breve già tra le mie mani ed è un prodotto che secondo me voi adorerete tantissimo ma non vi dico altro non vi dico altro perché dovete spulciare i miei social e soprattutto il sito slide24 che dire sono contentissima sono super mega contenta ringrazio anche slide24 per la professionalità che hanno per la cura nei dettagli perché sono senza parole sono veramente contentissima adoro questa maglietta e spero che l'adorerete anche voi appena vi arriverà fra le vostre manine e niente io e Andrea vi ringraziamo sempre per tutto perché ci state sempre vicini ci state accompagnando in questo percorso stiamo crescendo i 300.000 sono qui e io non so non so veramente come ringraziarvi se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video seguitemi sempre su Instagram e soprattutto se volete acquistare le mie magliette del team unicorni più forti del mondo e dei dolci unicorni cliccate il link giù in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao dolci unicorni ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti